Sarà capitato anche a voi di notare in questo periodo folte colonie di api in giro per la nostra città e che a volte se non affrontate nel modo giusto possono rappresentare un pericolo per chi ci si imbatte La gente non deve spaventarsi, non è facile intanto prima di tutto la gente confonde le api con le vespe che sono due cose ben distinte la vespa fa il carton, l'ape fa il miele e la cera Quando la gente vede uno sciame di api non deve agitarsi sta ferma, calma, tranquilla, chiama i pompieri i pompieri chiamano il presidente o la segretaria noi siamo associati al consorzio apistico provinciale e poi mandano un apicoltore a prenderlo Maggio è il periodo in cui da noi le api sciamano cioè abbandonano la loro arnia per andare a cercare un altro luogo dove vivere e moltiplicarsi è un periodo molto impegnativo per gli apicoltori fatto di continue chiamate di persone che hanno avvistato uno sciame e che chiedono di recuperarlo e ogni volta è una nuova sfida come ci ha raccontato un apicoltore fanese Loro in qualsiasi punto che gli fa vanno su un albero, su un olivo oppure dentro un muro dove trovano un buco dentro l'avete visto, dentro le auto perché lì essendoci queste feritoie se vede che quel che andita a controllare prima qui ci fa, tac poi avranno sentito un certo calore di questa macchina ma sai, in questi tempi che è ancora freddo perché qui quest'anno la temperatura è fredda La sciamatura è un fenomeno che fa parte del ciclo vitale dell'alveare avviene in primavera quando tutti gli organismi viventi sentono lo stimolo di riprodursi e procreare nelle ore più calde della giornata le api escono dall'alveare in modo frenetico formando una nuvola che si sposta velocemente verso il luogo prescelto per posarsi e costruire la nuova casa riuscire ad assistere con i propri occhi a questo spettacolo della natura è una vera fortuna purché muniti delle opportune protezioni per tutto il corpo